Ciao Bannis! Ben ritrovati, io sono Panofsky e la nostra pagina Solare for Bannis vi saluta con tutta la community italiana, siamo sempre di più, stiamo crescendo organicamente e mi fa davvero tanto tanto piacere. Ma passiamo subito al sodo, andiamo a vedere questa è la nostra pagina Twitter dove troverete tutti gli altri link che rimanderanno alle nostre pagine social come il gruppo Telegram soprattutto, la pagina Twitch dove andremo live e YouTube ovviamente dove caricherò questa nuova, questa rubrica che sto portando avanti da qualche giorno, questo è il terzo episodio 5 for Bannis dove andrò ad analizzare 5 giocatori che rappresentano la filosofia Bannis, ossia small budget, big result, quindi il miglior rapporto qualità prezzo sui campionati minori. I primi due episodi come avrete visto spero l'abbiamo dedicati uno alla Danimarca e l'altro alla Ligue 2 francese, questa settimana andremo a vedere la Premier League russa come avrete visto dal titolo, campionato che è ricominciato proprio questo fine settimana scorso, quindi il 3 marzo, che durerà fino al 3 giugno e ovviamente dominato da uno Zenith che ha dei prezzi davvero allucinanti e noi andremo a vedere qualcos'altro che ruota attorno. La classifica è interessante dove abbiamo questo Zenith che ovviamente va via e tutte le squadre di Mosca più il Rostov ma soprattutto l'Akmat e il Krasnodar che sono delle squadre da tenere in considerazione. Passiamo però subito ai 5 Bannis che ho scelto in questo episodio e partiamo dal portiere. Per la porta ho scelto Anton Shunin, davvero uno dei migliori portieri di questo campionato e dello scorso. Il prezzo in questa sessione è abbastanza basso come tutti i prezzi come sappiamo da qualche settimana a questa parte però è un prezzo ragionevole ancora anche in euro e soprattutto garantisce soprattutto una soglia se vogliamo e è abbastanza affidabile. È tornato addirittura l'ultimo weekend con un bel 93 e diciamo che le premesse fanno ben sperare. Ovviamente il flore è un po' risalito questi giorni come vediamo anche dal grafico però io credo che si trovi ancora abbastanza basso e anche in euro vedete che può risalire alle sue cifre e per questa tornata secondo me è davvero da tenere in considerazione anche perché soprattutto i portieri delle altre squadre, tralasciando lo Zenit come diciamo che non prenderò praticamente in esame in questo video è il più economico diciamo mantenendo questo punteggio medio. Quindi Anton Shunin è la mia prima scelta per la Russian Premier League In difesa ragazzi io propongo Dimitri Skompinsiev Un prezzo davvero invitante Qui lo dà ancora come sostituto Come vedrete qui il prezzo è salito abbastanza Ed è esordito subito subito con un bel 100 con un assist e un 57 di all around Ha giocato anche in coppa qui non lo rileviamo e ha segnato anche in coppa L'ultima partita a novembre aveva segnato L'unico appunto è perché qui è ancora sostituto L'L15 è basso perché il suo protagonista della fascia sinistra non era lui Ma ha una vecchia conoscenza del calcio italiano L'Axalt E se volete essere certi in questo momento pare che sia infortunato Però è talmente economico anche lui che secondo me un bel pack di terzini sinistri della Dinamo Non è esorbitante Quindi secondo me può essere davvero una soluzione interessante Soprattutto per l'L15 basso Secondo me potrebbe garantire soprattutto nelle prossime settimane Prima magari del rientro di L'Axalt Ma se continuo con queste medie secondo me può prendere il posto Direi che in difesa può essere davvero una soluzione economica a basso budget Ma che potrebbe regalare soddisfazioni Per il centrocampo Artem Timo Fiev Passiamo come vi dicevo all'Akmat Grozny Che è un po' la sorpresa di questo campionato Il prezzo è un po' più alto del solito Ma è basso È sempre sotto 0,001 Anche la rara è abbastanza economica Soprattutto ragazzi guardate le medie Ovviamente lui è tornato subito con un gol Ci aveva lasciato con un gol Medie altissime ragazzi Infatti L'L5 addirittura di 66 L'L15 di 54 Ovviamente per una soglia potrebbe essere alta ragazzi Però schierato in una formazione Può essere anche decisivo Guardate quanto la round fatto ultimamente Il prezzo non è neanche così alto Se andiamo a vedere Le ultime vendite e il grafico È un po' risalito Però ragazzi Riesce a fare queste Prestazioni Io direi anche di avere un occhio di riguardo Proprio per la formazione dell'Akmat Grozny Dove ci sono parecchie carte So RR di giocatori Però nel centro campo Spicca lui Ed è abbastanza affidabile Il prezzo sta risalendo dopo l'ultima prestazione Ma secondo me Sotto lo 0-0-1 È ancora buono Mentre andiamo velocemente Passiamo all'attacco John Cordoba Lui ovviamente è il più costoso del pacchetto Dopo il portiere John Cordoba Colombiano Perché ho scelto lui Oltre al fatto delle medie Ragazzi Che sono abbastanza evidenti È poco sopra Lo 0-0-1 0-0-135 Ma È davvero Tornato subito con un gol Ed ha attirato le attenzioni Del selezionatore Della nazionale colombiana Che è in procinto Di convocarlo Quindi se dovesse confermare la sua vena realizzativa Potrebbe davvero ottenere anche questa insperata Convocazione per un giocatore non più giovane Ma che sta trovando una seconda giovinezza A Krasnodar Qui siamo a Krasnodar Le medie come dicevamo alte Il prezzo sta risalendo Ma è ancora secondo me ragionevole E soprattutto ci sono margini di miglioramento In vista di questa convocazione Per quanto riguarda Lo slot invece Del jolly Lekis Adulaev Torniamo a Grosny Centrocampista Trequartista Mezzala Giovanissimo 2000 Sarà quindi Under 23 Fino al 2024 Qui lo vedete infortunato Perché è uscito Per una botta L'ultima giornata Ma ragazzi 88 Con Un rigore Procurato Giovane Di prospettiva Molto economico Secondo me Ci sono ampi margini Ovviamente bisogna capire un po' questo infortuno Ma io penso che sul lungo periodo Sia un ottimo investimento Un giocatore giovane Che deve dimostrare una formazione Sorpresa il campionato Titolarissimo Le ultime A quel prezzo Ovviamente come jolly Può essere Una buona Buona risorsa Questa ragazzi Era appunto La Russian Premier League I miei Five Forbannis Vi ricordo Per ultimo Le nostre pagine Sempre social Lasciate un like Per piacere Così Crescerà il canale E ci fate davvero Un Un complimento Se volete O perlomeno Un aiuto Volevo segnalarvi inoltre E salutare i ragazzi Di Sorare Italian Player Qui collaboriamo su Twitter Ad un'altra giveaway Insieme Che sta riscuotendo Molto successo E li ringrazio di questo Presto sarò ospite Da loro Ma questo ve ne parlerò In altra sede Partecipare Basta andare Sulla loro Pagina Twitter Mettere un follow Alla nostra pagina Quella loro Un like Un retweet E partecipate All'estrazione Di Adam Zygala Che ho messo In palio Per voi Vi ricordo Appunto Di seguirci Perché ci saranno Delle novità A breve Che vi illustrerò Presto Lega privata Con le common Gratuite E Lega privata Con vincenti Le limite Lega privata Con un'altra soluzione Che stiamo studiando Sempre privata Ma per gli abbonati Del canale Twitch Dove si vincerà Una rara Quindi Seguitici ragazzi Sui nostri canali Io vi saluto E il prossimo episodio Di 5 War Bannies Vi aspetta Ci sarà un sondaggio Sul nostro gruppo Telegram E andremo a scoprire Un altro campionato minore 5 giocatori Da tenere Sott'occhio Un saluto a Panoschi Ciao ragazzi Alla prossima